ma già luigi spesso mi dicono ma perché c'è quel tuo avatar dappertutto e sul libro e poi sul sito e poi sui video e poi sulle immagini e poi di qua e poi di là perché usi quella caricatura a parte quella caricatura non è che può sminuisce la tua professionalità ma io penso di no addirittura sminuire la mia professionità credo che mi rappresenti anche abbastanza lo mettino col boggione si dice le mie parti col testone con la cravatta perché io ho voluto comunque picchiare così tanto su quel su quell'avatar perché sostanzialmente tempo fa ho letto un dei contributi di laura rice che è la figlia di all rise il padre del posizionamento lei aveva introdotto questo concetto secondo me molto interessante di visual hammer i brand dovrebbero utilizzare comunque la comunicazione diciamo non scritta ma prevalente la comunicazione del del brand con un logo con un simbolo perché arriva molto prima nella testa delle persone del resto il nostro cervello processa molto prima le immagini simboli le forme rispetto ai numeri e alle parole che vengono processate per ultimo e quindi gli esempi ce ne sono migliaia di esempi però pensate a questa silhouette che cosa vi ricorda questa silhouette non ce neanche bisogna di dirlo oppure anche questo simbolo che associ non soltanto a una marca di automobile ma anche un concetto forse di posizionamento di lusso e via dicendo e quindi non stiamo sempre e solo parlando comunque di loghi non stiamo parlando di comunque della diciamo l'oggettivificazione sempre che si possa dire una cosa del genere del brand ma si possono usare anche altri appunto visual hammer oppure nail chiodi dice laura rice e io ho deciso di farmi l'avatar che praticamente ormai vive di vita propria pensa che a un certo punto dei bambini mi avevano chiesto il pupazzetto solo che costava 150 euro per fare il pupazzetto non mi sembrava il caso e soprattutto qualcuno mi continua a chiedere ma dove l'hai fatto questo avatar te lo sei disegnato dove un programmino voglio farlo anche io perché ci provano con l'avatar di facebook e fa abbastanza schifo l'avatar di facebook e allora il segreto è trovare un professionista che te lo faccia io l'ho trovato in indonesia sono andato sul sito Fiber che è praticamente una più grande piattaforma di professionisti che possono lavorare da remoto e mi sono fatto fare questo avatar che adesso ha praticamente come il ritratto di dorian gray praticamente spero che sia lui a invecchiare e io l'ho in realtà non è vero perché purtroppo marva bianca va avanti o su tutte altre le informazioni riguardanti appunto trucchi segreti ma soprattutto teoria e pratica della comunicazione digitale ti rimando al mio sito giovigiboranomi.com ciao